Un'impresa comasca su due paga i fornitori alla scadenza. La provincia di Como è settima in Lombardia per puntualità nei pagamenti. I dati emergono dallo studio pagamenti 2014 realizzato dalla società Caribis DMB. Nel primo trimestre 2014 il 50,1% delle imprese comasche ha pagato alla scadenza le fatture ai propri fornitori, mentre il 41,8% ha saldato con un ritardo fino a 30 giorni e l'8,1% un mese dopo. Il fatto che un'impresa su due sia puntuale nei pagamenti potrebbe sembrare un dato del tutto negativo e invece i comaschi sono pagatori migliori sia rispetto al resto della regione, 45,9% di imprese puntuali, sia rispetto alla media nazionale. In Italia solamente il 38% delle imprese paga nei termini. Da segnalare però un dato assolutamente negativo e legato alla crisi, lo studio indica un netto peggioramento dei ritardi gravi nei pagamenti, quasi quadruplicati in quattro anni, passati dal 2,6% del 2010 all'8,1% nel 2014. Chiudendo con la classifica regione per regione, la Lombardia è la terza più virtuosa d'Italia nella puntualità del saldo dopo Emilia-Romagna e Veneto, ma anche in Lombardia la crisi ha inciso sulla puntualità dei pagamenti. Negli ultimi quattro anni i ritardi superiori ai 30 giorni sono aumentati del 220%.